Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione cruciale tra la direzione strategica della ASL, i capi del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, il 118 e i rappresentanti dei sindacati. L'ordine del giorno era la riorganizzazione del sistema di soccorso, un cambiamento spinto da recente partenza di 5 medici del 118, ora assegnate ai pronto soccorso e dalle dimissioni di un altro. Con solo 11 medici rimasti, la ASL ha dovuto ripensare l'organizzazione del servizio di emergenza. La soluzione proposta è stata quella di implementare l'equipaggio India, composto da infermieri autisti, un modello già in uso in altre aree del paese. L'ASL di Teramo ha optato per una composizione dell'equipaggio che vede un autista affiancato da due infermieri. Questa riorganizzazione ha però suscitato preoccupazioni tra i sindacati e i lavoratori e la UGL Salute ha espresso perplessità su questo nuovo assetto. C'è mancata una condivisione preventiva e un coinvolgimento anche degli operatori ed una formazione nel tempo, non perché gli infermieri del 118 non siano formati, anzi ringraziamo l'azienda per l'impegno e per la formazione degli stessi, ma più che altro perché vengono ad essere catapultati in una realtà senza aver comunque gradualmente nel tempo preparati né loro e quantomeno la popolazione. In accordo con i sindacati però l'ASL ha deciso di posticipare l'ingresso dei 5 medici del 118 nei pronto soccorso dal 1 aprile al 16 aprile in modo da intensificare ancora di più la formazione degli infermieri che comporranno gli equipaggi India. Sicuramente l'azienda proporrà dei protocolli o delle linee operative, delle istruzioni per comunque garantire un'autonomia o una compartecipazione tra l'infermiere e il medico che non è che scomparirà dal territorio. Ci sarà lo stesso, ci sarà, però non sarà capillarmente ubicato come prima. Cosa dicono gli infermieri di questa cosa? Che cosa dicono gli infermieri? Gli infermieri alcuni li ho sentiti e non sono molto favorevoli a questa situazione. Altri cercherò di sentirli, dopo chiederemo anche a loro se è possibile avere una dichiarazione oppure sapere qual è il loro punto di vista su questo. Grazie. Grazie.